ciao a tutti come state bentornati sul canale oggi video haul e vi faccio vedere degli acquisti pochi acquisti in verità che ho fatto indovinate un po ma lo saprete già perché avrete letto il titolo di questo video è andata dal nostro amatissimo tiger il nostro amatissimo tiger vi faccio vedere la busta eccola qua qua c'è il gatto e mi aspettavo da tiger diverse cosette a tema non so autunnale o di halloween invece non c'era niente di ciò volevo anche fare qualche acquisto pazzo comprare qualche scemenza così ma non ho trovato niente che destasse insomma la mia curiosità ma ho comprato delle cosine che invece uso e le faccio vedere siamo iniziamo cosa avrò comprato mai ecco qua allora siccome voglio fare dei bei muffin ho comprato questi che sono i contenitori per i muffin questi mi piacciono perché sono belli profondi e quindi posso fare quei muffin che vengono fuori super gonfi e cicciotti che mi piacciono moltissimo quindi prossima ricetta aspettatevi i miei muffin volete i muffin al cioccolato o quelli ai mirtilli fatemi sapere scrivetemi il commento vi farò la ricetta e quindi ecco qua i muffin e di questi ne ho presi due due confezioni perché ne voglio fare tanti e poi anche perché ognuna di queste solo 12 muffin quindi insomma volendo fare due volte sono belle tutti così con questa fantasia a quadretti carini i prezzi volete sapere i prezzi ma i prezzi mi sa che non ve li posso dire perché non trovo lo scontrino giusto quindi niente da dove sarà lo scontrino di tiger non lo so perché poi nel frattempo è andato anche in altri negozi ho usato sempre questa busta per mettere le cose che ho comprato e quindi niente non ho boots per esempio ma non ho tiger vabbè poco male comunque tutto un pound due pound mi mantengo molto bassa allora ho preso queste che sono le liquirizie di tiger che sono buonissime se vi piace il gusto un po amaro perché sono gommose ma non gommosissime non si appiccicano non danno fastidio ma la cosa bella è che proprio hanno questo aroma molto forte di liquirizia a me piace tanto poi io soffro di pressione bassa quindi queste le porto in borsa e appena sento che sto per svenire per così dire no vabbè sento che la pressione sta scendendo ne prendo una e magicamente la mia pressione e risale quindi queste sono veramente molto utili poi sempre parlando di dolci ho comprato questo che è lo stampino per i biscotti cioè voi fate i biscotti tonni e poi ci passate questo sopra e vi rimane insomma la frase in questo caso c'è scritto made with cuore quindi fatto diciamo col cuore fatto con con amore e niente carina c'erano c'erano diverse però bella fino a preso questa qua di questo stampino stampino più che altro si può chiamare timbro timbro per per dolci e poi vabbè ho preso i grissini questi mi piacciono che sono quelli con sopra i semini di papavero e di sesamo sono buoni quindi ho messo al contrario scusate questo è il il verso giusto e niente sono sfiziosetti se mi piace avvolgerli no cioè mi piace avvolgerci intorno una fetta non so di prosciutto di bresaola così come antipasto o come aperitivo allora poi ultima l'ultima cosa che ho preso sì che poi non è nient'altro questo forse è lo scontrino di tiger sì eccolo qua e vi dico vi dico vi dico vi dico cosa vi volevo dire cosa cosa non mi ricordo ah sì questi qua i muffin costano un pound l'uno questo cosa per i muffin e invece questo qua il timbro due pound e tutto il resto l'ho pagato un pound praticamente quindi questo e vabbè l'ultima cosa che io voglio far vedere sono i tovaglioli che io prendo sempre ho trovato questi che sono secondo me carinissimi questi qua con le foglie verdi su fondo rosa sono bellissimi e poi anche questi sono molto carini sono sembrano acquerellati questi colori tenui belli e poi ho trovato l'unica cosa di halloween era questo il tovagliolino con il fantasma e quest'altro invece è il tovagliolino a tema unicorno e niente quindi questi qua erano tutti gli acquisti fatti da tiger così in un pomeriggio un po' uggioso oggi c'era un po' di pioggia in giro e quindi io mi sono rifugiata da tiger peccato non aver trovato qualche cosa di strano però rimanete con me perché tornerò da tiger anche perché io voglio comprare assolutamente qualcosa di halloween devo fare qualcosa di a tema halloween e niente poi spero anche di trovare qualcosa a tema un po' autunnale perché sarebbe bello insomma fare un video sulle cose dell'autunno non so vi potrebbe piacere va bene io vi saluto fatemi sapere se queste cosine vi sono piaciute fatemi sapere se avete trovato altro da tiger segnalatemelo qui sotto così insomma magari mi ispiro e niente ma lo sapete che c'è il giveaway aperto i premi sono carini se mi va di partecipare guardate insomma il video lasciatemi insomma il commento che vi ho richiesto ovvero la ricetta preferita e buona fortuna io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao